Non dimentichiamo che l'Italia è stata promotrice dello spazio unico europeo, ferroviario, e quindi siamo favorevoli al fatto che le nostre grandi aziende possano agire sullo spazio europeo globale, non semplicemente dentro i confini nazionali. La discussione sul quarto pacchetto ferroviario è alla conclusione e credo che questo aprirà ulteriori prospettive anche per le nostre aziende.